Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo wedding vlog. Oggi vi porterò con me in chiesa e poi dopo vedremo la location addosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qui in location. Questo locale si affaccia sul bellissimo e suggestivo lago di Percusa che vi farò vedere adesso in qualche pezzettino di video. Ci tengo molto anche a farvi vedere l'antipasto che è davvero molto assortito e molto ricco e quindi ecco, seguite questo video per scoprire come al solito sia tutte le cose buone che ci saranno da mangiare ma anche l'allestimento, l'abito della sposa. Insomma, mi terrò di compagnia come sempre. Grazie a tutti. 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 Adesso sto mangiando questo arancinetto zafferano e ragù. Buonissimo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.